in gara 1 partono bene le due ferrari con subito l'audi r8 che va a inseguire le vetture del cavallino partono bene anche le due lamborghini ma iniziano subito a battagliare tra di loro partito bene anche federico leo mentre l'audi continua con il suo passo colpo di scena la prima variante con frassinetti che sperona la ferrari di leo out per entrambe le gare mentre frassinetti riuscirà a partire per gara 2 purtroppo inizia la male la stagione 2016 per la scuderia baldini lotta tra i due ferrari mentre continuano gli scherzi tra i due lamborghini del team imperiale in quelle della roggia prosegue la gara con l'audi che inizia a farsi sotto e sorpassa la ferrari all'ingresso della variante ascari ne approfitta la lambo che si infila tra i due alla staccata della parabolica una gara veramente scintillante tra questi equipaggi intanto pezzucchi prova su mancinelli e jerry e riesce a passare alla staccata della variante ascari ma sul traguardo va a vincere proprio l'audi r8 di felipe albuquerque e di marco mapelli quindi subito una vittoria per quanto riguarda audi sport italia seconda posizione per la lamborghini e terza per l'altra ferrari un'altra ferrari di parabolica Grazie a tutti.